Dopo aver attraversato questo tornante della storia umana che alla nostra generazione è capitato di vivere, nulla sarà come prima. Il Governo deve essere all'altezza di questo elevato compito. Purtroppo però, al culmine di alcune settimane di attacchi mediatici molto aspri, a tratti anche scomposti, alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato, poi confermato, di volersi smarcare dal percorso comune. Di qui poi le accuse rivolte a tutto il Governo, ma in particolare anche al mio ruolo, ad un tempo di immobilismo e di correre troppo, di accentrare i poteri e di non avere la capacità di decidere. Vi assicuro che è complicato, molto complicato, governare in queste condizioni, con chi continuamente dissemina mine sul percorso comune e mira allogorare un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza. Grazie.